grazie grazie mille ben trovati di nuovo vorrei ecco ricordare il contesto che ci porta a spiegare queste parole di gesù e siamo all'interno del viaggio l'ultimo pellegrinaggio di gesù a gerusalemme la cartina che è stata portata qui come segno ci ricorda e come già chiara ci anticipava che salire a gerusalemme significava per gli ebrei maschi che avevano quest'obbligo tre volte all'anno compiere le feste di pellegrinaggio quella di scott la festa delle capanne shavuot la festa di pentecoste e infine il pellegrinaggio pasquale quando le famiglie si potevano ritrovare a gerusalemme e potevano così ricordare l'esodo l'uscita dalla schiavitù dall'egitto nel vangelo secondo matteo noi abbiamo proprio un indizio del fatto che il suo salire a gerusalemme non sia semplicemente un pellegrinaggio ma sia questo pellegrinaggio matteo è l'unico che al capitolo diciassettesimo al versetto 22 ci lascia un segnale delle tribù che si radunavano in galilea e allora proprio in quel contesto gesù cominciò a dire il figlio dell'uomo sta per essere consegnato ci è stato ricordato dai nostri amici che siamo dunque all'interno del pellegrinaggio pasquale ma proprio nel contesto di quello per questo pellegrinaggio pasquale durante questo itinerario gesù per la terza volta annuncia la sua passione morte e risurrezione lo capiamo proprio dall'attacco del versetto 17 mentre saliva a gerusalemme gesù prende di sparte i dodici discepoli ed ecco dice noi saliamo a gerusalemme il terzo annuncio della passione due approfondimenti due affondi che voglio fare con voi il primo riguarda questa donna così così coraggiosa nel vangelo secondo marco sul quale matteo deve avere lavorato e dal quale l'evangelista deve avere preso delle fonti importanti non c'è questa scena così come la leggiamo ma c'è una differenza importante sono i figli di zebedeo che vanno da gesù ecco qui poi potremmo anche ragionare sul piano storico critico facendoci la domanda fatale ma allora che cosa è successo come ci dice marco sono andati giacomo e giovanni da gesù o come ci dice matteo è andata la madre dei figli di zebedeo le due versioni sono irriducibili ecco e dobbiamo così ricordare che i vangeli non solo riportano gli eventi si soffermano sulla base delle fonti che hanno elaborato ma hanno ciascun evangelista e ciascun vangelo una propria visione teologica un proprio piano teologico programmatico che cosa vuole dirci matteo con questo cambio questa variazione così curiosa chi chiede a gesù la primazia ecco qualcuno ha detto il vangelo di matteo è il vangelo l'abbiamo imparato ieri ecclesiale quello che si sofferma sulla dimensione ecclesiale che dà un grande rilievo ai dodici in particolare al protos il primo pietro insomma matteo non vuole mettere in cattiva luce due dei dodici e allora ci dice che è la madre ad andare avanti ecco questa potrebbe essere una interessante soluzione anche perché rispecchierebbe la società del mondo antico dove effettivamente le donne come l'abbiamo già detto non potevano esercitare un ruolo diretto pensate sempre nel vangelo secondo matteo al capitolo ventisettesimo nel contesto della passione la moglie di pilato che vorrebbe salvare gesù perché ha sognato a causa sua non può avvicinarsi al marito ma gli manda un messaggero insomma cerca di svolgere un ruolo mentre il marito sta prendendo la decisione di liberare o di condannare gesù allora qualcuno ha scritto ecco questa donna in qualche modo sta facendo quello che può quindi la madre dei figli di zebedeo l'unica cosa che poteva fare chiedere un favore per i propri figli ma per essere lei così ad avere un certo potere non lo sappiamo se questa sia la ragione matteo non ci spiega questo ma ci dice qualcosa di straordinario anche nel racconto della passione un piccolo cambiamento rispetto alla fonte che matteo deve avere consultato perché nel vangelo di marco nel resoconto più antico la madre dei figli di zebedeo sotto la croce non c'è e invece la troverete lo sentirete domani nella passione secondo matteo quindi in qualche modo potremmo dire questa donna chiara ha spiegato che forse non sapeva quello che chiedeva e gesù lo dice voi non avete idea è stato spiegato il significato del calice che cosa comporti questo riferimento simbolico ebbene questa donna che non sa quello che chiede che cosa significhi governare come gesù vuole essere e compiere il servizio ecco alla fine però c'è e sotto la croce lei è tra le donne che in qualche modo possono bere questo calice perché partecipa alla passione del signore il secondo approfondimento che riguarda una una frase di gesù che è probabilmente una delle frasi più importanti che lui abbia pronunciato e che non è originale nel vangelo secondo matteo matteo l'ha trovata nella sua fonte immaginiamo non siamo certi non non è necessario esprimersi a questo riguardo l'ha trovata nel racconto di marco ed è questo detto gesuano sul servo che il figlio dell'uomo che è venuto non per essere servito ma per servire e per dare la sua vita in riscatto per molti questo detto è tornato alla luce curiosamente al convegno di firenze è tornato un po' è stato ripreso perché papa francesco quando è venuto e ha partecipato al convegno ecclesiale del 2015 ha ricordato che la chiesa italiana è una chiesa popolare che sta attenta a tutti che cerca gli ultimi e ha aggiunto quasi al termine del suo discorso sì perché gesù non è venuto per pochi o per molti ma per tutti ecco trovate questa espressione chiarissima nel discorso di firenze di papa francesco ai membri dell'assemblea del convegno ecclesiale il contesto era un contesto delicato nella chiesa qualcuno chiedeva visto che si stava rivedendo la traduzione del messale romano quello che ora noi stiamo utilizzando che venissero migliorate le parole di gesù a proposito del calice che sono una ripresa di matteo il racconto della passione capitolo 26 il versetto 28 quando gesù dice questo calice il sangue dell'alleanza versato per ecco qui c'è una un sintagma greco che è molto chiaro iperpolloi che alla lettera significa cioè per i molti e allora qualcuno ha detto cambiamo miglioriamo la versione che si recita e che è quella con il quale il sacerdote con il calice dice riferendo le parole di gesù questo sangue è per molti ecco da qui ne è venuta una questione complicata perché in questo senso la richiesta formulata da alcuni poteva significare un aspetto che non era totalmente diremmo universale ma che distingueva appunto tra i molti e i tutti ora vedete che il punto è molto delicato allora cerchiamo di riprenderlo in questi minuti che ci mancano e vediamo da capo quello che dice gesù scopriamo la forza di queste parole sulla sua diaconia e arriviamo a dare una risposta anche come vedete a questioni che sembrano tecniche o sembrano vecchie o staccate dalla vita ma che invece riguardano anche per esempio il nostro modo di celebrare di concepire la morte del cristo e il significato del suo sangue versato allora questa frase sulla quale mi voglio soffermare è quella che dice in quale senso gesù vuole essere il messia o il figlio dell'uomo non entro qui a specificare però gesù parla di sé molto più volentieri di figlio dell'uomo perché è un termine polisemantico che può indicare sia un riferimento alto ma bene adam nell'ebraico nell'aramaico poteva significare anche se come ogni uomo come figlio cioè di donna o di uomo allora gesù parla di sé come colui che è venuto per servire e non per essere servito intanto notate per favore il verbo che ha una diatesi si dice cioè va letto e gesù vuole che sia all'attivo lui è venuto non per essere soggetto passivo di un'azione farsi servire essere servito naturalmente a tutti piace in qualche modo essere serviti penso quando si è stanchi si arriva a casa dopo 8 10 ore di lavoro e insomma ti metti a tavola se devi anche alzarti per prendere il primo e poi il sale poi le altre cose veramente sarebbe bello che tu trovassi tutto pronto oppure anche una moglie un figlio un cameriere che ti prepara le cose e ti serve e quindi diciamo che a tutti piace questo e gesù lo sa bene e lui spiega in quale senso invece lui sarà messia di fronte a una dozzina di modelli messianici che circolavano al tempo da quelli più autorevoli come un messia per esempio militare un messia re che avrebbe governato effettivamente sulle tribù di israele un messia sacerdote un messia prestigioso angelico tra avanti a tutti questi modelli gesù dice io sono venuto primo non per essere servito ma per servire il verbo è diaconeo e noi lo conosciamo perché il sostantivo legato al verbo diaconos è utilizzato anche nel nostro linguaggio ecclesiale che cosa vuol dire diaconeo e dunque per capire il senso di una formula abbiamo detto non è originaria di matteo ma si giova si trova già nel capitolo decimo versetto 45 di marco la guardiamo nel contesto per costruire un lessico cioè il significato di una frase di una parola la guardiamo così come è usata in quel contesto nel vangelo di matteo il verbo diaconeo viene utilizzato quattro volte la prima volta proprio all'inizio del vangelo quando gesù messo alla prova viene poi servito dagli angeli al termine della tentazione gli angeli lo servivano così potremmo intendere proprio il servizio a tavola perché gesù aveva digiunato 40 giorni e 40 notte dunque viene aiutato gli angeli gli portano il cibo poi c'è un'occorrenza molto importante quella della diaconia femminile la suocera di pietro a caffarnao dopo che viene guarita e liberata dalla febbre si alzò e serviva lui attenzione diversamente da marco che invece dice li serviva la diaconia nel vangelo di matteo qui il verbo è legato a che ha come oggetto o destinatario il cristo ma è una donna che serve il signore conoscete il dibattito attuale sul diaconato femminile vedete come le parole sono importanti anche qui però noi implichiamo era un sabato che questa donna alzatasi dalla febbre abbia organizzato quello che le donne facevano nello shabbat quindi anche qui il verbo deve avere un significato che è il significato primario cioè servire a tavola poi il verbo ha un significato importante di nuovo per le donne vengono descritte come quelle durante la passione che accompagnavano e servivano gesù e infine è servito e usato questo verbo per parlare di quello che viene fatto al figlio dell'uomo che scende dalle nubi del cielo ed è quel piccolo povero al quale sono state fatte o non fatte queste cose ecco dunque la diaconia del portagli il cibo del vestirlo perché era nudo del visitarlo perché era malato questi quattro significati del verbo diaconeo nel vangelo di matteo ci dicono gesù dove si colloca ecco intanto non escludiamo questo servizio perché è un servizio davvero pratico alla fine di questo detto nel prosieguo della pagina gesù esce da gerico e gesù deve servire due ciechi e dunque li serve non a tavola ma compie un servizio di guarigione però qui il detto continua dicendo che questo servizio che gesù compie che non vuole essere servito ma che è venuto per servire è dare la propria psiche la propria vita la propria vita ed è per il riscatto per molti allora cosa vuol dire dare la propria vita molti danno la propria vita pensiamo non solo alla tradizione biblica che ci riporta per esempio a delle offerte della propria esistenza per l'altro per esempio per i peccati c'è nella storia dei maccabei l'episodio di coloro che martiri pensate a questa nostra suora italiana che è morta perché uccisa sangue freddo dai fondamentalisti islamici e ha dato la sua vita per la gente per la quale lavorava pensate a quelli che danno la vita a dei genitori che nelle proprie case seguono dei figli con disabilità allo sposo e alla sposa che stanno accanto a un coniuge con l'alzheimer ai figli che assistono i genitori a chi a chi dà la vita concretamente non solo il tempo ma forse anche la propria vita ebbene questo non basta perché c'è una differenza tra la vita che viene data da molti da quelli che compiono azioni così lodevoli e quello che può fare il cristo perché solo lui può dare ci dice il vangelo la propria vita come riscatto ecco qui entriamo in un termine che poi scoprirete domani pomeriggio quando rileggerete la passione di matteo che ha come sfondo un contesto liturgico sacrificale legato al sangue di gesù per questo gesù alla sua ultima cena dice solo nel vangelo di matteo e questo caratterizza dunque questa questa sua visione che il suo sangue è per il perdono dei peccati noi conosciamo questa frase perché il sacerdote la pronuncia ogni qualvolta consacra il calice ma attenzione c'è la solo matteo questo sangue eis affezin per la remissione dei peccati anche questo un linguaggio sacrificale che ha uno sfondo abbiamo detto che è quello delle celebrazioni delle feste giudaiche in particolare quella che prevedeva il perdono dei peccati e cioè lo yom a kippurim cioè il giorno dell'espiazione dunque gesù sente un ruolo importante per sé ha un'autocoscienza altissima di un servizio che non è un servizio qualsiasi certo è come portare a tavola il cibo servire gli ammalati ma c'è qualcosa che lui solo può dare potremmo dire così nessuno di noi può salvare gli altri dai propri peccati solo il figlio dell'uomo può farlo e per chi lo fa e ho concluso per pochi per molti per tutti ecco il greco alla lettera sia qui sia nelle parole sul calice dell'ultima cena ha certamente per molti e dovremmo intendere però in un primo senso i molti cioè israele è chiaro che qui il vangelo di matteo punta un'altra volta al popolo di gesù ma come già nel primo testamento in particolare da dove viene questo riferimento che si può trovare nei testi profetici come libro del profeta esalia capitolo 53 versetti 11 a 12 dove si parla dei rabbin cioè dei molti anche qui non c'è una salvezza esclusiva è una salvezza che si apre nel misterioso disegno di dio attraverso israele per tutti allora ecco io direi e concludo se filologicamente cioè con precisione con distinzione dovremmo dire che gesù ha detto che questo sangue è per molti e nessuno lo può contestare perché è scritto così noi dobbiamo intenderlo nel senso teologico cioè questi molti sono certo il popolo per il quale gesù è versato il suo sangue ma sono tutti vorrei dire questo e concludo con una citazione che riguarda una santa che invochiamo perché protegga la nostra europa teresa benedetta della croce edith stein una donna ebrea nata nel giorno dell'espiazione un lungo cammino faticoso di scoperta di gesù cristo filosofa di altissimo livello assistente di husserl nelle cattedre di filosofia di fenomenologia in germania incontra cristo chiede il battesimo entra nel carmelo e poi viene ovviamente da hitler e da tutti i suoi compagni cercata perché è ebrea le suore carmelitane cercano di farla rifugiare rifugiare nel carmelo di ert in olanda ma viene scoperta dalla gestapo lei che nel frattempo aveva anche accolto sua sorella ugualmente entrata nella fede cattolica e diventata monaca quando arriva la gestapo e la porta via dice a sua sorella andiamo per il nostro popolo che cosa comprendiamo in queste parole certamente edith stein ebrea aveva in mente nella testa nel cuore come il popolo di israele che era il popolo perseguitato da anni da millenni e in quel tempo ancora oggetto dell'odio di adolf hitler ma con quel popolo lei intendeva certamente il nostro popolo lei era una monaca carmelitana e aveva capito che in cristo ecco la salvezza che passa per il popolo di israele arriva a tutti gli uomini grazie 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 grazie